La la si, la la so, la so la, la so fa mi, la so so fa fa Ragazzi sapete come sento? E' una cosa come uno si sente, non è una cosa compatta, cerchiamo di essere precisi, ok? Vai! Allora, a 4, u a 3, perché no, perché va elevare 1, 2, 3 So la si, so la si, so la so, 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 la so fa mi, la so so, la fa fa Allora, a 3